Suo marito è qui. Che cosa è successo? E perché mi trovo qui? Jennifer, sei stata investita da un'auto e hai battuto la testa. Non te lo ricordi? Non ricordo il tuo nome. Io sono Russell. È un vero piacere conoscerti. Non ci credo che sia casa nostra. È della mia famiglia da anni. È così tranquillo. Puoi dirlo. I nostri vicini abitano a un miglio da qui. Così poco. Detective Page. Mi piacerebbe parlare con sua moglie. Potrebbe portarla in centrale domani. Cosa fai domani alle 11? Ti ho sentito mentre parlavi al telefono. Era una chiamata di lavoro. Chiedevano quando sarei rientrato. Russell. C'è qualcuno in giardino! Oggi devo andare in città e ti compro il cellulare. Ti occorre qualcos'altro? Non preoccuparti. Ho solo bisogno di guardarmi intorno. Magari mi torna in mente qualcosa. Non esagerare. Come ha fatto Russell a provare di essere suo marito? Ha riconosciuto un tatuaggio sulla schiena di Jennifer. Jennifer e Russell erano la coppietta dell'ufficio. Se quello è Russell, lui chi è? Che cosa hai fatto a mio marito? Non è stato un incidente. Tutto ciò che ho sempre voluto era che tu mi amassi. Ogni account Facebook e Skype che si vede nel film Unfriended è vero e lo si può trovare. Le riprese sono durate solo 16 giorni, 12 ore al giorno e fu tutto girato in una sola casa con i protagonisti al computer in diverse stanze. Inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi offline, poi cyber natural e alla fine si scelse Unfriended. Per oggi è tutto. Vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, trovate il link in infobox e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria. Grazie. Grazie. Grazie.